o comunque la sola aiutare infatti non è quello il problema allora so io il problema magari cioè qual è cioè non abbiamo soldi non c'è una casa stava a far divorziare i tuoi mia madre per trovare due lire è dovuta tornare in romania tuo padre sta dormendo una cantina cioè mio padre veramente lasciamo perdere e tu sei un ragazzino perché mai tradito con una tipa ma io sono ancora più ragazzina di te perché pensavo che sarei riuscita a gestire tutto questo e non non ce la sto facendo ma non me di così me fa sentire a merda me fa sentire a merda io me manierei le mani guarda che uno fa una cazzata dice solo una cazzata e poi invece no la paghi tutta la vita ma non esageriamo nel senso io sto male te stai male stiamo male ma che senso c'ha davvero che senso c'ha che io mi ammazzerei piuttosto guarda lasciamo perdere lasciamo aperte lasciamo aperte dai vieni qua guardiamo un attimo in faccia la realtà piuma non è ancora nata e già c'è questo casino comunque quando nascerà dovremmo starle dietro cioè cambiare i pannolini darle da mangiare stare svegli la notte non ce la possiamo fare cioè non siamo pronti